Sono stati diramati i calendari della Serie D per la stagione 2014-2015. L'inizio è fissato per domenica 7 settembre, mentre la conclusione della regular season è prevista per il 20 maggio. Il girone di andata terminerà il 4 gennaio. Le due cilentane presenti al campionato, Gelbison e Agropoli, come è noto, sono inserite in due raggruppamenti diversi. Il girone H per il rosso-blu di Vallo della Lucania, il cui esordio avverrà in casa al Morra contro una delle favorite alla vittoria finale, il blasonato Taranto. Il girone I per l'Agropoli, che debutterà ugualmente tra le mura di casa e al Guariglia, ospiterà gli isolani dell'Acagrass. Se andiamo più nello specifico, la Gelbison nella seconda giornata se la vedrà in trasferta con la neopromossa Potenza, altra nobile decaduta, per poi affrontare il primo impegno con una corregionale, l'Inter Napoli. A seguire due pugliesi, Manfredonia fuori e San Severo in casa. Alla sesta e il 12 ottobre il derby salernitano con la Cavese in programma a Lamberti. La squadra di Logarzo chiuderà l'anno al Morra il 21 dicembre ospitando il Grottaglie. Dopo la sosta natalizia in occasione dell'ultima diandata, che aprirà il 2015, il 4 gennaio coinciderà con la trasferta in Puglia ad Andria. L'Agropoli, come detto, inizierà in casa con gli agrigentini dell'Acagrass, che hanno sperato nel ripescaggio in Lega Pro e sembrano attrezzati alla pari dell'Agropoli per il grande salto. Alla seconda, altra isolana, la neopromossa Leofortese. Alla terza in casa arriva il sorrento del Pampasosa, ancora un avversario a Sicula alla quarta, altra matricola il Due Torri, poi è la volta del Neapolis. Alla sesta, il Derbissimo con la Battipaiese di Squillante. Come i Cugini Vallesi, anche l'Agropoli termina l'anno solare sul Campo Amico, ospitando il comprensorio Montalto, mentre la prima del 2015 vedrà i Delfini impegnati a noto. Sono previste due soste, il 28 dicembre e il primo febbraio in occasione del torneo di Viareggio. La Coppa Italia, invece, partirà il 24 agosto con il turno preliminare. Agropoli e Gelbison entrano in gioco il 31 agosto con il primo turno. Grazie a tutti.